Salve, sono Manola, rappresento l'Agenzia Modella per un giorno, ho scelto di collaborare insieme alla Palestra Santa Monica di Michele Scalpa. Questa collaborazione nasce perché per essere modelle non serve solo la bellezza regalata dalla natura ma anche colpivata e lavorata. Qui c'è bisogno di un'inchiesta di confusione di stecchia che aiutino le ragazze amanti e mia simulina. Manola, rappresento Santa Monica!